Ho partecipato sabato ai funerali solenni per le vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia il 24 agosto. Sono stata a questa cerimonia a nome della Commissione e del Presidente Juncker come segno concreto della presenza dell'Europa in una circostanza così tragica. La domanda che risuonava in quell'occasione era ora che si fa? Chiediamo anche all'Europa, i cittadini ci lo chiedano, ora che si fa? Abbiamo messo a servizio Copernicus, che è il nostro sistema satellitare che sta provvedendo a delle mappe dettagliate delle aree colpite. Siamo pronti ad attivare il fondo di solidarietà che è stato attivato anche in occasioni precedenti, nel terremoto dell'Aquila e nel terremoto del Reggio Emilia nel 2012. Questo fondo in quell'occasione ha stanziato 500 milioni e 700 milioni rispettivamente, è un fondo che si attiva sulla richiesta del governo italiano e che va ad aiutare proprio le regioni più povere e più deboli perché è calcolato in base al prodotto interno lordo.